Musica Vi presentiamo il primo telefono con processore Atom che è stato lanciato da Acer Processore Atom, costruito e distribuito da Intel piattaforma hardware che ultimamente sta vedendo la luce in molte proposte di vari produttori di dispositivi mobili questo qui è l'Acer Liquid C1 un telefono abbastanza performante infatti è un processore Atom da 1.2 GHz una fotocamera da 8 megapixel uno schermo con una risoluzione elevata 1280 x 720 vi facciamo vedere un attimo il lato hardware quindi come appare alla vista il retro ha una finitura leggermente gommata una trama che potremmo definire a pneumatico sembra quasi lo sbalzo che c'è sotto i pneumatici delle autovetture fotocamera da 8 megapixel come abbiamo detto flash LED nel lato inferiore possiamo trovare il logo Intel Inside accanto ai fori per l'altoparlante la cornice appare cromata vedete c'è una leggera bombatura del retro tutto pulito il lato inferiore lato destro con il rocker per il volume e nient'altro lato superiore con spegnimento e accensione jack da 3.5 mm per sentire la musica e micro usb equipaggiato con l'ultima versione di Android in versione standard ovvero non ci sono personalizzazioni a parte la preinstallazione di alcune applicazioni tra le quali possiamo numerare Polaris Office quindi una suite di ufficio completa da tenere sempre in tasca qui da Acerora è tutto un saluto da Ispazio e da Vronix Italia